Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione vi rimanda la home page del sito di Pumpling dove trovate un sacco di magliette, felpe, scarpe, zaini, computer smartphone e un sacco di altri prodotti a tema nerd e ci sono un sacco di offerte interessanti che vi linko per appunto qui in descrizione se volete avere questi prodotti con il 20% di sconto a fronte di un acquisto inferiore ai 50€ potete usare il mio codice sconto VILASLOS se invece spendete più di 50€ e avete il 25% di sconto usate il mio codice sconto POWER25 ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi sigla allora è uscito il quinto episodio di WandaVision su Disney Plus quindi se non siete in pari con la serie non proseguite la visione di questo video perché farò spoiler e vi consiglio di non guardarlo se non avete visto almeno gli ultimi film usciti del Marvel Cinematic Universe perché sicuramente ci saranno dei riferimenti dovete essere ben informati vi ricordo che se magari non avete visto i film più collegati alle serie del Marvel Cinematic Universe potete guardarvi Marvel Legends su Disney Plus che sono dei riassunti che vi permettono di sapere le cose più importanti accadute nei film per poter guardare queste serie perché ad esempio c'è gente che mi ha scritto dicendo eh io ho visto WandaVision però non l'ho capito molto perché non l'avevo visto né Infinity War né Endgame ecco quei due film sono fondamentali per comprendere meglio quello che sta accadendo in WandaVision comunque sia la scorsa puntata mi era piaciuto un sacco lo sapete perché finalmente si usciva dall'esagono perché di esagono si tratta che circonda Westview in cui Wanda sta pilotando riscrivendo la realtà e quindi io mi aspettavo che la puntata 5 sarebbe stata ancora in forma sitcom e basta la sorpresa è arrivata quando a un certo punto la sitcom si interrompe per dare spazio a quello che sta accadendo fuori dall'esagono che mi ha chiamato ESA dalla stessa Darcy Lewis quindi sono contento perché la paura di tanti un pochino anche la mia è che magari continuassero con solo la sitcom fino alle ultime puntate magari dandoci diversi indizi ma non mettendo in gioco uno sviluppo di trama massiccio come quello che abbiamo potuto vedere nella scorsa puntata molti l'hanno definita una puntata spiegone in realtà secondo me non è uno spiegone gli spiegoni sono ben altro era semplicemente ciò che avevamo visto fino a quel momento ma dal punto di vista di chi è fuori dall'esagone dalla realtà in cui si trova Wanda e non sto più dicendo la realtà creata da Wanda perché in questa puntata ci sono delle rivelazioni interessanti ad esempio verso la fine Wanda parla con Visione che ormai ha preso coscienza di sé ha capito che c'è qualcosa che non va e quindi dice cosa stai facendo Wanda stai facendo male a queste persone perché c'è una scena in cui Visione a lavoro prende Norm il suo collega con il potere della Gemma della Mente riesce a raggiungere la sua coscienza più profonda quella consapevole che però è oscurata da Wanda attenzione e vediamo che per l'appunto lui dice ti prego aiutami devo sentire mia sorella si occupa di mio padre che sta male dove è il mio telefono falla smettere mi sta facendo male questi pensieri non sono i miei e capisci che sta soffrendo tantissimo questa cosa mi ha messo un'inquietudine spaventosa giuro sono rimasto allibito quando ho visto quella scena perché dal momento sitcom anni 80 tutto gioioso con loro che stanno provando i nuovi computer e leggono una mail dello SWORD che spiega la situazione ecco l'incursione della realtà è qualcosa di terribile in quel momento e quindi lui parla con Wanda e dice cosa stai facendo e dice tu pensi che sia io io non so cosa stia succedendo praticamente lei si è trovata lì quello che mi ha stupito è che sembra che Wanda che anche lei ha preso coscienza della cosa da poco controlli certi aspetti di questa realtà ma non sembra averla creata lei consapevolmente almeno ed effettivamente Monica Rambeau quando viene visitata dopo essere stata sbalzata fuori dall'esagono dice che sentiva la voce di Wanda che le faceva coercizione è vero però quando Norma parla io ho come l'impressione che non stia parlando di Wanda o è Dotti o è Agnes c'è qualcosa che non va cioè io credo che Wanda sia la stiano usando ma che non sia stata lei consapevolmente a fare tutto io credo che ci sia qualcosa sotto perché se prima ero sicuro che fosse stata lei adesso a sorpresa potrebbe non essere stata lei e sono convinto che Norm non si stesse riferendo propriamente a Wanda credo che questo sia un depistaggio classico perché hai la scena con Monica Rambeau che ti dice che sente la voce di Wanda Norm che dice fa la smetta e tu pensi sta parlando di Wanda non sono convinto che si stia riferendo a lei e quindi per l'appunto Vision e Wanda stanno parlando e Vision è visibilmente sconvolto perché all'inizio con la sitcom nella puntata degli 80 ci sono loro due che cercano di far dormire gemelli arriva Agnes che si comporta in maniera molto strana è già dalla puntata 3 che Agnes si comporta in una maniera particolare e sembra essere quella più consapevole di tutti lì dentro sembra essere quella più consapevole di tutti è quella che rivela Visione di Geraldine che poi è Monica Rambeau e è quella che qui a un certo punto quando Visione chiede ma perché sei qui c'è lei che dice guarda Wanda con uno sguardo preoccupato e dice la rifacciamo vuoi tornare indietro e Wanda dice ma no cosa stai dicendo e Visione capisce che c'è qualcosa che non va si rende conto che qualcosa non funziona qualcosa non va decisamente ma torna nel torpore quando vede i gemelli che sono cresciuti all'improvviso i gemelli da neonati diventano improvvisamente dei bambini di 6 o 7 anni e questa cosa non vi sembra non essere notata da Agnes che fa delle battute sulla cosa ma sono battute meste cioè la stessa Wanda dice ma no Agnes non sembra neanche se si è accorta che i gemelli sono cresciuti è come se lei si sia rassegnata e io continuo a dire che c'è qualcosa che non va qualcuno mi suggerisce da giorni che potrebbe non essere Agnes la cattiva è che Agnes stia invece proteggendo Wanda ma che la persona da cui guardarsi sia effettivamente dotti io non sono convintissimo io continuo a pensare che Agnes non me la conti giusta non me la conta giusta neanche un po' ok quindi il suo comportamento in questa puntata è secondo me estremamente sospetto ormai a Wanda le cose stanno sfuggendo di mano la sua guardate anche i capelli che prima sono curati poi sono tutti scarmigliati lei non riesce più a tenere sotto controllo tutto forse perché sta tenendo sotto controllo tante cose ma di base non è lei dice che non è lei ad aver creato quello che sta creando credo che sia qualcosa a livello inconscio lei è come controllata in un certo senso perché anche ciò che accade alla fine lei non sembra averlo preventivato ma di questo parleremo tra poco perché è la bomba gigantesca della puntata questa puntata è stata clamorosa e mi piace anche vedere che Monica Rambeau sta investigando su quello che è accaduto ad esempio a un certo punto si sta parlando del fatto che Wanda proietta allucinazione e dice a me non sembrava un'allucinazione mi sembrava qualcosa di estremamente reale va nel laboratorio dove ci sono i vestiti con cui è stata trovata perché lei è uscita dall'esagono con i vestiti che aveva quando era in quella realtà spara alle pantaloni alla maglia e i proiettili vengono rimbalzati questo perché perché lei indossava un Kevlar quando è entrata nell'esagono e quindi questa è la prova che i vestiti sono antiproiettili perché Wanda o chi per lei comunque quella realtà riscrive la realtà esterna quando viene in contatto e quindi i suoi vestiti sono di Kevlar però sono reali e darsi stessa ci rimane male perché dice se lei sta creando qualcosa se tutto quello che c'è lì dentro è reale non sono allucinazioni sta gestendo un ammontare di energia che è semplicemente spaventoso perché ha creato qualcosa di nuovo quindi sta riscrivendo la realtà e allora decidono di mandare un drone degli anni 80 che non può essere riscritto perché è già degli anni 80 è già amalgamato con l'ambientazione e il diciamo il direttore dello SWORD ha armato il drone all'insaputo di Manuel Carambeau che per l'appunto lo sta comandando si trova davanti a Wanda e che è lì con i gemelli i gemelli tra l'altro sono lì che avevano chiesto se potevano avere questo cagnolino e intanto entra Agnes con la cuccia e c'è Visione che dice ed ecco Agnes con il perfetto oggetto che ci serve in questo momento cioè Visione per tutta la puntata è consapevole che qualcosa non va ormai non va più nel torpore Wanda non riesce più a controllarlo perché è troppo 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 diciamo ormai consapevole vigile ecco arriva il drone per l'appunto e allora succede questa cosa e qui io non me lo sarei mai aspettato onestamente non pensavo che avrei visto una scena del genere adesso si sente l'allarme di violazione del perimetro lo stesso che si era messo in funzione quando Monica Rambo era stata buttata fuori dall'esagono nella scorsa puntata cosa succede che io sta uscendo qualcuno dall'esagono e io francamente ho detto sarà non so qualcuno degli abitanti di Westview che è riuscito a scappare perché il direttore dello SWORD aveva armato il sapore di Monica Rambo e penso magari lei è stata colpita non è morta non è che sia ferita ma qualcuno non ha approfittato la sua distrazione per scappare e invece esce fuori Wanda con il drone in mano che dice non dovete permettervi di intromettervi ancora e cercano di farla stare tranquilla e lei dice voi non capite quello di cui ho bisogno ce l'ho già qui io voglio questo e con il suo potere mentale fa sì che le guardie armate che le stanno puntando i fucili li puntino sul direttore dello SWORD che si spaventa e lei rientra nell'esagono questa cosa è allucinante e all'inizio puntata poco dopo la prima parte della sitcom vediamo che direttore dello SWORD che è il classico burocrato un po' stronzo che non pensa alle conseguenze delle sue azioni stanno parlando del fatto che potrebbe essere un attacco terroristico come Carambo dice guarda che non mi voleva fare del male mi ha buttata fuori dalla cupola e non mi sono fatta male perché mi ha protetta ha creato un qualcosa intorno a me che non mi facesse male mentre io venivo schizzata fuori dalla cupola c'è qualcosa che non va lei non è cattiva non è una terrorista e allora lui dice quello che è accaduto in Lagos quello che è accaduto in Germania in Sokovia lei è stata la prima ad attaccare gli Avengers quindi insomma lui non si fida ma soprattutto mostrano e questa cosa mi ha lasciato allibito mostrano questa questo filmato delle videocamere di sorveglianza in questo laboratorio dove era conservato il corpo di visione con lei che entra sbaraglia e prende l'involucro di visione ora tutti si chiedono darsi soprattutto perché Darcy Lewis lo sappiamo è una scienziata quindi è la prima a farsi le domande ma come ha fatto a rianimarlo senza gemma della mente in realtà secondo me è abbastanza semplice ipotizzare come abbia fatto il suo potere deriva dalla gemma della mente lo dicono anche in questa puntata lei è stata manipolata da Stracker dicono ecco questa è una cosa che avevo detto già tempo fa V sta parlando di quello che era successo ai gemelli a Pietro Evanda e che cosa succede che a un certo punto il direttore Roswell dice sì i genitori sono morti in un raid aereo per una bomba Stark e poi i ragazzi sono diventati volontari per gli esperimenti dell'IDRA e V dice sì è una semplificazione ma ok perché effettivamente sì volontari ma per quanto può essere volontari un bambino cioè capito non è che ero volontari che non sapevano dove altro andare semplicemente questi hanno detto vi portiamo voi noi in un posto sicuro sono morti i vostri genitori e hanno detto di sì grazie al cazzo mi è piaciuto questo V che puntualizza è un po' una semplificazione ma ok ecco devo dire che francamente la cosa di lei che ha preso il cadere di visione lo ha rianimate in un certo senso mi fa continuamente andare a pensare che lei avesse bisogno di mettergli una coscienza se vogliamo in un certo senso io sono convinto sempre più convinto che senti la cosa corretta di Ultron il fatto che lei abbia magari abbia estratto delle informazioni da Ultron perché se vi ricordate la coscienza di Ultron e la coscienza di visione derivano dalla stessa matrice sono collegate la stessa visione si considerava parte di Ultron quindi tutto questo solo perché c'è James Spader nel cast vocale c'è la voce di James Spader come Ultron io continuo a ripetere che secondo me non è tanto il problema della gemma della mente che c'è una cosa che dice visione io non mi ricordo della mia vita prima di Westview gli ha azzerato la memoria lui non si ricorda di essere morto non si ricorda gli Avengers non si ricorda di niente Wanda ha ricreato visione secondo me a partire da una traccia della sua coscienza digitale non ha potuto mantenere i ricordi io sono convinto che c'entri qualcosa sono convintissimo che lei abbia troche visione gli avesse detto che Ultron non era morto e che lei al momento giusto lo abbia preso e abbia ricreato la visione con i poteri della gemma della mente poi lo abbia diciamo rianimato in un certo senso però io sono convintissimo che sia qualcosa del genere so che sembra campato per aria e che può sembrare troppo ziggogolato ma mi piace pensare che possa essere una cosa del genere ecco mettiamolo in questo modo quindi tutta la parte finale con i titoli di coda che scorrono e loro che continuano a litigare non vogliono fermarsi non vogliono smettere ok questa cosa mi è piaciuta da morire con lei che sembra voler soggiogare ancora visione per farlo stare buono ma visione ormai non ci sta più poi altra scena straziante è quella del cane che è morto ok con Agnes che l'ha trovato tra le azzele dicendo che ha mangiato le foglie che lo hanno avvelenato e allora a un certo punto i figli dicono mamma tu puoi farlo puoi farlo risorgere e Agnes dice puoi fare questa cosa e lei non vuole farlo dice no è troppo facile è troppo comodo cioè lei capisce che si è spinta oltre ma non sa nemmeno lei come si sia spinta fino a quel punto e quindi non vuole in nessun modo dare questo insegnamento cioè che basta uno schiocco di dita e le cose tornano a posto e i figli dicono ma tu hai detto che la famiglia sopravvive sempre e lui fa parte della famiglia però lei non non fa risorgere il cane e tra l'altro c'è questa cosa della discussione tra le visione tra l'altro questo momento con visione che prende la sua forma reale si alza in volo ed è minacciosissimo e anche Wanda si alza in volo iniziando a diciamo a emanare il suo potere perché è spaventata neanche lei sa bene cosa sta succedendo è cosciente fino a un certo punto di quello che sta succedendo lei dice la vita è perfetta qui è bellissima io non sto controllando tutto cosa credi che io controlli le persone gli appuntamenti che hanno dal dentista è iniziato tutto non so come si è iniziato tutto cioè in un certo senso è come se lei si fosse trattata a Westview col potere di controllare questa realtà ma in realtà ti fa capire che non la sta controllando del tutto lei quindi c'è qualcosa che non va Wanda è una vittima in tutto questo e tra l'altro c'è anche lo spot con questo spot di una carta assorbente la carta assorbente Lagos e la tagline per i pasticci che combini senza farlo apposta è un riferimento a quello che lei ha fatto nel Lagos quando ha causato la morte di diversi civili perché Crossbones si era fatto saltare in aria mentre lei lo stava cercando di mantenere nei palazzi invece l'aveva preso in pieno e quindi il pasticcio che lei ha combinato ma senza farlo apposta è leggermente più che un pasticcio mettiamolo in questo modo e il finale della puntata credo sia una delle cose più assurde allucinanti che si potessero vedere nella serie si era preventivato però non si era capito bene come sarebbe successo in questa puntata si parla ancora di Pietro perché i gemelli sono venuti dicono ma tu hai un fratello sì però è molto lontano mi manca tanto però non posso farci niente si parla tanto di morte in questa puntata la morte di Visione che adesso è vivo la morte del cane lei ha scelto di rianimare Visione presumibilmente ma non rianima il cane perché come mai si sta accorgendo che ha fatto qualcosa di sbagliato evidentemente cioè qual è il collegamento tra lei che va a prendere il corpo di Visione e questa realtà se lei dice di non sapere come sia creata c'è qualcosa io credo diventa sempre più probabile la questione Mephisto tutti dicono guarda che lei ha fatto un patto con Mephisto potrebbe essere che Mephisto abbia detto prendi il corpo di Visione e poi al resto ci penso io può essere che abbia fatto una cosa del genere io continuo a pensare che Mephisto sia difficilissimo da inserire in maniera sensata e credo che in tutto questo non ci sia Mephisto direttamente ma Agnes io sono convinto che Agnes e vetrice di Mephisto abbia trovato un modo per evocarlo in un certo senso io credo che Mephisto sia prigioniere da qualche parte magari è che a un certo punto ci c'era fuori e che tutto questo faccia parte di un suo piano per portare il suo signore magari è intrappolato nel multiverso magari il senso di tutto questo è far sì che Wanda distrugga le barriere del multiverso e in questa puntata credo che questo sia succedendo perché alla fine bussano la porta mentre Visione Wanda litiga o suona il campano comunque c'è qualcuno alla porta lei va ad aprire e vediamo inquadrato di spalle una persona inquadrato di spalle una persona con i capelli bianchi i capelli grigi e io ho pensato ti prego non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere è bello perché c'è l'alternanza quella parte non è che ti fanno vedere subito chi è ci si sposta al di fuori dell'esagono dove c'è Darcy Lewis che guarda la trasmissione fa che cosa e dice un altro attore nel ruolo di Pietro e vediamo Evan Peters che si presenta tutto simpatico come Pietro peraltro peraltro vorrei far notare che è l'Evan Peters più simile a com'era in Apocalypse che è ambientato negli anni 80 in X-Men Apocalypse siamo negli anni 80 e questa era la puntata della sitcom anni 80 io quando ho visto la scena ho detto ma porca di quella vacca ero e questo si ricollega alla questione del drone lei voleva Pietro ok lei voleva Pietro ma è estremamente confusa questa cosa non credo l'abbia fatta consapevolmente quindi ha portato il Pietro più vicino a quello che stava vivendo in quel momento il Pietro degli anni 80 non un eventuale Pietro da un altro universo in cui Pietro era ancora vivo lo ha portato lì io sono straconvinto che abbia iniziato ad abbattere in maniera inconsapevole le barriere del multiverso e credo che l'obiettivo di chi sta dietro a tutto questo che possa essere Agnes che possa essere Dotti non lo so sia quello di far sì che lei abbatta il multiverso perché secondo me c'è qualcosa che stanno cercando io credo che se c'è Mephisto che verrà introdotto magari anche solo idealmente e non sarà effettivamente il vero e proprio villain della serie perché poi potrebbe essere il villain di Doctor Strange del multiverso madness io credo che tutto questo lo stiamo facendo o per lui o comunque per qualcosa che viene dal multiverso io sono una dimensione che fa parte del multiverso io sono convinto che ormai sia questo lo scopo e lei inconsapevolmente ha portato una persona che si integra una versione di Pietro che si integra perfettamente in questo mondo che si è creato ovvero il Pietro degli anni 80 a vedere lui che arriva che fa la battuta chi è Ghiacciolo? Cos'è da Popsicle? parlando di visione io ero lì sono rimasto boh capite che è la prima volta in cui vediamo l'integrazione del multiverso nella sua forma più pura l'X-Man dei film Fox che viene utilizzato in un prodotto Marvel Studios è la prima volta che vediamo nell'MCU una contaminazione credo che poi non sarà un qualcosa che si collegherà magari al come posso dire non penso che con questo riportano gli X-Men no perché sta accadendo in questa realtà però potrebbe essere l'inizio di qualcosa è qualcosa di enorme potrebbe non avere grosse ripercussioni potrebbero trovare il modo per non fare avere grosse ripercussioni ma come? in che modo? come fai? come puoi? cioè con questo hanno cambiato tutto ragazzi se poi facessero finta di niente quantomeno devono farci capire che possono arrivare anche altri personaggi ok? cioè io voglio che questa cosa me la spieghino cioè perché questo Pietro io credo che la cosa del drone sia fatta apposta per fartelo capire il drone è anni 80 quindi si integra bene e per cui non c'è bisogno di riscrivere la realtà per cui lei siccome ha già portato in vita Visione probabilmente inorridiva l'idea di portare in vita Pietro perché Pietro è un essere umano Visione è un sintezoide Pietro è un essere umano probabilmente la inorridiva l'idea di giocare in questo modo con la vita e la morte e allora inconsapevolmente ha fatto la cosa più vicina a quello che avrebbe voluto fare ha preso il Pietro degli anni 80 che non ha bisogno di riscrivere e l'ha portato lì potrebbe essere quello secondo me la scena del drone serve esattamente per farti capire il perché è accaduta questa cosa solo che è accaduto inconsciamente tra l'altro tra l'altro mi è piaciuto tantissimo il fatto che Monica Rambeau a un certo punto parli di Captain Marvel perché c'è D'Arcy Lewis che tiene in ballo Captain Marvel parlavano si parlava del fatto perché effettivamente Jimmy Woo dice ma da quando Wanda è così forte perché è quello che ci riempiano tutti da quando questa qua è così forte e dice beh se Thanos non avesse chiamato un blitz Wanda lo avrebbe ammazzato da solo l'unica che era riuscita a tenere i test era Captain Marvel e allora c'è Monica Rambeau che dice sì ma noi non parliamo di lei d'accordo perché perché è evidente che quando la madre stava morendo di cancro che lei è stata ad accudirla Captain Marvel non c'era la sua migliore amica non era presente Maria Rambeau non aveva la sua migliore amica a fianco perché era troppo occupata a fare altro e quindi in questo senso direi che l'astio di Monica Rambeau è palpabile e mi fa piacere che stiano iniziando un attimino a collegare le cose perché Monica Rambeau sarà in Captain Marvel 2 per cui staremo a vedere ma mi è piaciuto questo riferimento è ancora questa idea di universo ipercollegato che ormai si muove da solo questa cosa mi piace tantissimo ormai o sai le cose o sai le cose cioè ormai i collegamenti sono tanti e tali che non è più una questione di ma si cercano sempre di fare in modo che si possono vedere anche senza aver visto le cose precedenti qua o le hai viste o le hai viste o le hai visto sono cazzi tuoi ormai l'universo è diventato talmente vasto che o lo conosci o lo conosci punto se ne stanno iniziando a sbattere molto i coglioni quindi da questo punto di vista la puntata siccome è stata fenomenale fenomenale è una puntata che ti parla di vita e di morte una puntata che ti parla di una persona che è sull'orlo di un esaurimento perché Wanda ormai è sul brink sta perdendo completamente la brocca io voglio vedere la sua reazione quando ci sarà la prossima puntata e vedremo lei che deve reagire per l'appunto alla questione Pietro cioè si è vista arrivare questo tizio che lei in un certo senso riconosce come Pietro ma sa che non è Pietro voglio proprio capire come l'affronta la cosa ormai siamo arrivati a puntata 5 mancano 4 puntate sta iniziando tutto ad andare un po' a ramengo ci sarà secondo me un modo che lei troverà per riportare tutti in uno stato di incoscienza io spero che non fosse solo un cameo e mi auguro che Pietro ci sia anche una puntata 6 speriamo voglio sperare però a me questa comparsa improvviso di Evan Peters anche se me l'aspettavo perché l'avevano detta mi ha lasciato abbastanza allibito onestamente e io continuo a pensare che Agnes non la conti giusta la sua mestizia la sua rassegnazione mi fa pensare che non siano l'atteggiamento di una persona cattiva sembra più una persona che vuole proteggerla allo stesso tempo io non mi fido perché ripeto quella è Agatha Harkness a meno che non ci abbiano detto una palla e Agatha Harkness non si adotti eh eh quindi non lo so però la scena che mi ha più inquietato paradossalmente è quella di Norm il dolore la paura di quella persona mi ha messo un ansia un angoscia incredibile quindi veramente sono rimasto allibito sono rimasto stupefatto mi è piaciuto tanto quello che ho visto mi è piaciuto veramente veramente tanto una puntata stratosferica la migliore uscita finora lo so che lo dico di ogni puntata uscita ma non è colpa mia si alzano il tiro ogni volta cioè questa è la puntata dove la trama parte per davvero e si sta arrivando ad un punto le teorie le teorie che puoi fare sono tantissime ragazzi sono veramente veramente tantissime qui si sta acquendo il senso di colpa di Wanda si sta acquendo il senso di colpa di Wanda perché anche lo dimostra anche lo spot no Lagos lo spot Lagos è il senso di colpa che emerge la scena del cane è la scena più importante perché secondo me è quella sono le due scene chiave sono quella del drone e quella del cane perché si ricollegano alla fine alla fine cioè lei che ha effettivamente fatto quello che diceva i figli perché il punto è se io rifaccio il risorgere del cane sicuramente poi lo finirò col farlo con mio fratello e lei ha accuratamente evitato di fare questa cosa perché sa che è sbagliato con visione lo ha fatto secondo me perché sa che visione è un involucro e quindi era diverso era più facile riportarlo ma riportare il fratello sarebbe stato qualcosa di immorale non lo fa per il cane perché così facendo avrebbe fatto del bene ai suoi figli non può farlo per il fratello però il desiderio è talmente forte che ti ciccia fuori quell'altro quindi capito secondo me la scena del drone e la scena del cane sono quelle che ti spiegano perché Pietro è lì e quindi io sono convinto che sia una puntata straordinaria mi piace un sacco come stanno usando Jimmy V e Darcy Lewis loro due mi piacciono tantissimo e mi piace l'interazione che hanno con Monica Rambeau perché si sono create due fazioni nette il direttore dello SWORD che non è cattivo ma un po' ha una testa di cazzo e loro tre che sono la parte buona dello SWORD che capiscono che Wanda forse non ha colpa come può sembrare è facile puntare il dito e dire terrorista ma forse c'è qualcosa di più e quindi va capito effettivamente che cosa sia questo qualcosa di più quindi questo è quello che pensavo sulla puntata 5 di WandaVision fate sapere voi cosa ne pensate scrivete pure con spoiler perché tanto tutto il video è stato spoileroso quindi non preoccupatevi voglio sapere le vostre teorie e poi sicuramente ragionandoci a freddo in questi giorni mi verranno in mente altre teorie che vi dirò nel video di settimana prossima prima della recensione della sesta puntata io vi abbraccio vi ringrazio un sacco grazie mille ah scusate mi avevo dimenticato una cosa che pirla la sigla nella sigla c'è una strofa che dice che quando c'è un problema bisogna inventarsi una soluzione quando c'è qualcosa che non va ci inventiamo capito e sembra una sigla molto ogni 80 tra l'altro che va un po' a quasi darti degli indizi su quello che sta succedendo in un certo senso quindi era solo una postiglia quindi speriamo troppo noi ci vediamo al prossimo muovio vlog un po'